Io sento il vento, lo aspetto per giorni e poi quando arrivo mi sorprende sempre. Dicono che non ci ricordiamo nulla dei primi mesi di vita. Io invece mi ricordo precisamente i primi instanti. La mia sorella era destinata a diventare santa, mentre io era una persona normale. La suora si spaventò talmente che me lasciò cadere per terra. Grazie per la visione!